Ormai facciamo coppia fissa, io ero Rocco papà lì, non è vero Rocco? E' vero Già, questo non è un buon rotto i coglioni a stare vicino Vorrei abbandonarti, lasciarti un po' di spazio da solo perchè tu con questo banale e questo lampone ce l'hai rotto i coglioni Ma non riesci a discutire che ce l'avete gli italiani, fai te stesso! Ciao!